Sindaco, una serata per ricordare la giornata del ricordo, il Lefoib, quindi un argomento scottante ma anche che gli amministratori ci tengono a far ricordare e a portare avanti un messaggio per non dimenticare una tragedia così grande. Le tragedie così grandi, perché in effetti noi ricordiamo sia l'Eolocausto che il Lefoib in un giorno che è la data di morte del questore Palatucci, il quale fu l'ultimo questore di fiume che fu denunziato dalle forze Titine e morì in un campo di concentramento a Dachau il 10 febbraio e per questo la data coincide e la scelta della data del 10 febbraio, che poi sia anche la data del ricordo per quanto riguarda l'Efoib è un fatto aggiuntivo perché noi vogliamo ricordare con chiarezza e con forza queste tragedie per far sì che non si dimentichino e che vengano, come dire, evitate nel futuro. Quindi sia la pazzia, qualsiasi pazzia di qualsiasi colore che è determinata dall'uomo e che viene rappresentata sia dalle foibe che dall'Olocausto deve essere evitata nel futuro.